eccoci presa federica al lavoro e adesso partiamo otto ore di macchina e siamo pronti panini in macchina ho fame ciao vedete il video da questa nuova di zecca il primo video con la nuova in appena uscita speriamo che vi sia piaciuta e noi siamo adesso in macchina per questo grande viaggio ho pensato di come il viaggio sarà di qualche giorno questa volta non realizzeremo soltanto un video ma ne faremo diversi quindi restate con noi e questo è il primo della serie si questo è il primo della serie cioè proprio il viaggio e adesso vi salutiamo perché abbiamo fame ciao panini buonissimi e adesso ci avremo un pacchetto di patatine non abbiamo detto tuttavia dove stiamo andando e dove stiamo andando a toronto che vista otto ore da che becca sono un po di chilometri in macchina in macchina quindi abbiamo deciso di fare una tappa in mezzo a queste otto ore e quindi arriveremo a kingston che sta in ottario subito dopo monreal praticamente si è finita 5 ore e domani mattina poi direzione toronto ma prima di arrivare a toronto non ve lo diciamo dove ci fermiamo lo vedrete nel prossimo video di domani ci vediamo dopo patatine ciao patatine patatino patatine 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 no patatine parto abendato ciao rkk Vivrà in libertà Tornerai non sai Ogni tanto date non ci sei Tornerai non sai Amore come ora non voglio fare l'esperto L'esperto? 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 L'esperto di musica? Ma delle volte vai troppo alta E poi ti devo tagliare sul microfono Aiutatemi Ecco adesso un po' buglietto eh Direi di accendere la luce che abbiamo comprato Vediamo se funziona Wow Mazza che luce Guardate il nostro video che abbiamo fatto È in inglese però si capisce Questa è la luce che abbiamo comprato per il viaggio Funziona abbastanza bene direi Guarda sembra un barbara d'orso E adesso Pausa cesso Siamo arrivati a Montreal Adesso mancano 2 ore e 36 minuti all'arrivo Nella nostra prima tappa che è Kingston Si In realtà Ganano no Ganano 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 Ganno Na Noque Una cosa del genere Poi lo spieghiamo sopra Ganonanoque Non lo so In Ontario dai In Ontario Quindi fra poco Stacchiamo internet Perché stiamo per superare il confine Con la regione di Quebec La regione di Quebec E quindi Andremo a pagare E quindi non prima Stacchiamo E vai Avevo il microfono spento Che bello Bello eh Bello Fatti vedere Ale Facciamo un doppiaggio amore Pausa benzina Pausa benzina Siamo a un'ora e mezza Da Kingston Si Ci siamo fermati proprio ora Alessandro si era messo il mio giacchetto Adesso si sta infilando il suo E stiamo cercando di capire Perché qua c'è scritto soltanto diesel Però probabilmente siamo benzina Siamo benzina o diesel alla fine? E come facciamo? Andiamo a vedere dall'altra parte C'era sempre scritto Avventure nei benzinai incomprensibili Vediamo che questo abbia la benzina Noi confidiamo in Canada on Tire Tentativo benzina? Numero due La metto tutta? Si riparte un'ora all'arrivo Dai Andiamo At the end of the road Turn left Eccoci Siamo arrivati Al motel Con i cinesini simpaticissimi Stanza 111 111 E adesso vi facciamo vedere Con l'entrata nella stanza Al motel Questo è il motel E questa è la nostra stanza Hop In set Eccola Eccola Che carino Caruccia Eccola TV Pavolino Letto Finestrina Oltroncina inutile Frigo Microonde Roba per fare colazione E questo è il bagno Questo è il lavandino Ci abbiamo anche il fono Il cesso La vasca E adesso Portiamo tutto dentro Te lo mando Te lo mando Ok finito quando si parte per due giorni diciamo portiamo solo due cose portiamo due cose siamo appena accorti che in stanza fa davvero freddo e adesso fanno 13 gradi per questo abbiamo aumentato 22 eccola finita la doccia come era la doccia è molto calda è comoda l'acqua c'è bene però fa freddo fa freddo ma si è portata le ciabatte no che usi i pedalini come ci abbatte alla canadese vabbè va andiamo a dormire che domani ci abbiamo sveglia presto hai fame? ti manco a asciugare i capelli ecco ti chiesto messo i capelli e mangio un panino posso mangiare un panino? no a me chiederà certo però la digestione non è il massimo no a me chiederà ma tu te l'hai mangiato uno di cinque minuti fa lo spuntino di mezzanotte eccoci siamo a letto è stato un viaggetto un po' lungo però siamo qui e adesso ci mettiamo a dormire mi spugge la luce a domani buonanotte non stavi registrando? no che fenomeno guarda sembra un barbara d'urzo e adesso pausa cessi cessi ok e adesso pausa cessi adesso e poi pausa cessi e adesso no io devo dire adesso e adesso pausa cessi c'è devo uscire no qua che faccio c'è io ho freddo e lui mi vuole fare uscire per fare il video vabbè marito felice vita felice no?